Ciao bambini, io sono Peppa Picco e oggi vi ho preparato un fantastico episodio, sì sì sì, ma non sono da sola, lei è la mia amica Lolina. Ciao bambini, io sono Lolina, piacere di conoscervi. Allora, dov'è la mia sorpresa? È proprio qui, guarda, ma dove? Qui, wow, che cos'è? Come che cos'è? Ma non vedi? Sì, vedo, vedo tantissime perline colorate, eh sì, questo è un vero e proprio pozzo dei desideri Lol, Lolina. Oh scusami, guarda, tu puoi desiderare qualcosa di strano e appare là dentro. Davvero? Anche se vuole un po' d'uva o qualcosa di dolce? Sì sì, proprio così. Ora, faccio prima io, posso? Per favore, Peppa? Sì, dai, io voglio un gigante uovo di cioccolata e anche con i cereali, sì sì sì, con Giacogatto, va bene, anche Gufetta, dai, anche lei mi sta simpatico. Oh, buono, la mangiamo anche se appare, vediamo. Bambini, aiutatemi. Scaviamo, scaviamo. E sto ancora scavando, ma dov'è quest'uovo? Cioccoltois, wow, come volevi tu, Lolina? C'è il Gattoboy, c'è il Giacogatto e c'è il Gufetta, i PJ Masks, e pure da dolci preziosi, guarda, vediamo se ci sono le stelline come volevi tu. Oh, posso aprirlo io? Certo! Apriamolo. È qua. Tira giù. Ok. Ma io tiro, non succede niente. Tira più forte. Ma così rovino. No, vedrai che non rovini niente. Ecco, quasi aperto. Oh, ma guarda te, si è aperto da solo. Che fantastico uovo. Ora vediamo se troviamo la cioccolata che la mangiamo. Ma ci deve essere anche una sorpresa? Sì. E che bella sorpresa? È lì dentro. Sorpresa è una stellina. Ma guarda! Ma non è semplicemente un foglietto. Ci sono i tatuaggi. Vediamo un po'. C'è Gattoboy. C'è Romeo, l'entra della notte. E è lunetta. E ci sono i PJ Masks. C'è Gattoboy, Gufetta e Zeko. Wow, non vedo l'ora. Posso farmi Gattoboy qua dietro sulla testa? Oh, ma sei sicura che vuoi tatuarti il Gattoboy? È permanente, però. Dai. Sì, proviamo, proviamo. Va bene, proviamo. Ora tagliamo questo pezzaggino con Gattoboy. Avrà tagliato. Togliamo la pellicola. Bambini, non sono veri i tatuaggi. Sono tatuaggi che rimangono per un po'. E te lo attacchiamo alla testa, Peppa. Oh, ma non si attacca. La tua testa è tonda. Te lo attacchiamo al vestito? No, uffa. Non lo so. Dove lo attacco? Sul naso. No, il naso è troppo piccolo. E sulla mano. Attacchiamolo sulla mano. Ecco. Ora serve un po' d'acqua. Uno, due, tre. Wow, ma è un vero tatuaggio. Guarda come brilla. Gattoboy. Che bello. Sì, è fantastico. Hai visto? È un vero gattoboy. Meravigliosa. Meraviglioso. No, no, no. No, no, no. Ti sei emozionata tanto, eh? Sì. Ora voglio mangiare la cioccolata con le stelline. Ma sei proprio sicura? È vero. Ci sono le stelline. Ma dov'è il cucchiaio che era qua dentro? È ancora qua dentro. Ora mangiamo un po'. Un po' per me. E anche per me. Doi. Sì. E un po' per te. Bonissimo. Ora tocca a me. Ora tocca a me. Io voglio trovare. Io voglio trovare. Lo so. Io voglio trovare. Te lo dico all'ora. È vero. Che bello. Cerchiamolo. Ok, cerchiamolo. Oh, qui non c'è. Qui non c'è. Ora scaviamo un po' più in qua. Qui non c'è nulla. Oh, oh. Ah, no. Non è. L'ho trovato, bambini. Guardate. Questo è un occhio vero. Un occhio. Dai, non spaventare i bambini. Bambini, non è un occhio vero. È un occhio caramella. Molto buono. Sì. Dai. Mi divertivo di più a spaventarli. Ma non puoi spaventare i bambini. Non si spaventano. Vero, bambini? È un occhio caramella. Dopo lo mangiamo. Si apre così e fa... Va bene. Ora tocca a te. Se tocca a me. Io voglio trovare. Voglio trovare il mio amico. Il mio amico Puffy. Hai un amico Puffy? Sì, ho un amico Puffy. È molto divertente. Te lo faccio conoscere appena lo troviamo. Vediamo. Scaviamo insieme qua. Non c'è nulla. Oh, Peppa. Mi sta trascinando giù. Aiutami. Aspetta, dammi la mano. Stavo per andare giù, giù, giù nel pozzo. Stai più attenta. Aiutami a scavare però. L'ho trovato. Eccolo. Il mio amico Puffy. Stavo ascoltando la musica. Guardate. Ciao, Puffy. Ciao, Lolita. Piacere, Peppa. Io sono Puffy. Oh, piacere. Io sono Peppa Pig. Che brave ragazze. Che state facendo qui? Ah, ma noi stiamo scavando il pozzo per trovare i nostri desideri. Mmm, suona un po' strano, però va bene. Allora io voglio un po' d'uva. Vediamo se la troviamo, l'uva. Un po' di qua. Scavac, oddio. Ora mi sta mangiando a me. Aiutami. Dammi la manina. Ecco. Abbiamo trovato l'uva. Che buona. Sì, ora me la mangio. Ciao, ragazzi. Oh, che cattivo. No, non è cattivo. Mi piace tanto l'uva. Dai, un altro desiderio? Sì, e te lo dico all'orecchio. Oh, bello. Cerchiamo. Cerchiamo, cerchiamo. Ma dov'è? Uffa, e se non te lo portano? Vedrai che me lo porta il pozzo. Cerchiamo ancora un po'. Oh, eccolo. L'abbiamo trovato. Sì, ed è proprio come lo volevo, bambini. Guardate che bel zainetto delle LOL. C'è un cuorecino, un fulmine. Anche un gattino. E dentro... Dentro è pieno delle perline colorate. Che bello. Ci sono. Ora provo a metterlo sulle mie spalle. Aiutami, Peppa. Sì, ti do una mano. Vai, una manina. Ecco. L'altra manina. Oh, non ci arrivo. Tira, tira. Ah, ecco, ce l'ho fatta. Bambini, mi sta bene? È un po' più grande di me, però ce la faccia. È molto leggera. Ah, ora ho un zainetto. Ora ho un zainetto. È vero. Allora anch'io voglio qualcosa di... Oh, lo so. Bello, Peppa. Cerchiamo. Cerchiamo, cerchiamo. Oh, oh, oh. Siamo andati troppo dentro. Eccola. Peppina, l'ho trovata. Guarda. È una vera e propria corona delle principesse, bambini. Guardate come sta bene, Peppa. Eh, sì. Solo che mi copro gli occhi e io non vedo nulla. Bambini, aiutatemi. Oh, ok. Ora sono comodissima. Bene. E io direi che possiamo andare a mangiare un giocato. È vero. Bambini, se vi è piaciuto il nostro video, mettetemi in piace. Sì. E dite se anche voi avete un pozzo dei desideri. Yeee. Ciao, bambini. Sì. Sì. Ciao, bambini. Grazie a tutti. Grazie a tutti.